eravamo negli anni 80 quando in tutto il mondo spopolava la serie televisiva americana happy days le vicende di fonzi e della famiglia cunningham fecero presto il giro del mondo ma oggi grazie ai plastici di bruno vespa abbiamo scoperto che quello che vedevamo in tv era tutto finto oggi a distanza di un tot di anni grazie alla siamo in grado di presentarvi le vere avventure della celebre famiglia americana non ci resta che collegarci con i cunningham ma veniamo al momento topico della serata la poesia del signor cunningham allora titolo della poesia produzione musicale in studio se sono stanco io non rendo nel finire questa traccia ma se vuoi che mi riprendo porto in studio una zebraccia complimenti al signor cunningham si vabbè dai grazie allora facciamo una piccola intervista a questo mostro sacro del poema dunque come si fa a rimanere persone semplici nonostante il suo grande successo ma io non sono semplice come si fa a rimanere con i piedi per terra ma io non sto che piedi per terra a cosa ti ispiri mentre a mentre che cosa ci pensi maia ma chi ti piace andare a dove quando eri piccolo quando direi di fare un grande applauso al signor bravo si vabbè dai grazie si vabbè dai ciao ehi è permesso ciao fonzone scusa un attimo eh cosa c'è porto il rispetto vabbè sì ma ciao ricchi dai cosa ci fai con quegli stivali di plastica sto andando al laghetto a pescare spero di prendere qualcosa di buono ah ho capito senti sei dove tu papà non lo so l'ho visto che usciva dalla porta del retro ah eccolo che ritorna salve signor cunningham ciao fonzi oggi devi dire qualcosa o mi devi asciugare come al solito ah beh per prima cosa sono passato a salutarla poi volevo dirle che stasera ad alfred c'è la gara di cucina ah questa si che è una notizia che non me ne frega due cazzi ah 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 dai igor igor però devi ridere dopo ah tieniti almeno finisci la battuta ma dai signor cunningham non puoi perdere questa occasione è lei un mago ai fornelli arriverà sicuramente primo vabbè dai proviamo dai vediamo che cazzo mi invento da far mangiare a quei ricottari ah 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 che bella notizia signor cunningham vado subito da alfred a scriverla alla gara di cucina mabbone scusa ma perché usi sempre la porta sul retro e non usi quella dal davanti è tua madre che mi ha messo l'abitudine di usare il di dietro comunque vai a pescare e fatti i cazzitoi vai via dai dai via ah 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 ehi ciao alfred ciao fonzi ah devi assolutamente assaggiare questa mimanda che ho appena inventato ah 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 Che cos'è? E' una bibita che si fa mescolando lo sperma delle ocche e vinavil Dove dio no che sto piangendo, non lo scareggia Caspita Alfred, sperma delle ocche e vinavil Dalla discrezione sembra una prelibatezza E come l'hai chiamata? Oca-cola Alfred fa schifo No, io pensavo che ti faceva piacere bere lo sperma delle ocche Vabbè senti, volevo avvisarti che stasera la gara di cucina ci sarà anche il signor Cunningham Va bene Abruzzi, allora ci vediamo stasera Va bene Abruzzi Ma se si chiama Fonzi ogni volta è franco Va bene Abruzzi, allora ci vediamo stasera Ma quale Abruzzi? Io mi chiamo Fonzi Amici siamo arrivati alla fase finale della gara di cucina Adesso ci fermiamo due minuti e poi l'ultimo concorrente sarà il signor Cunningham Ma il signor Cunningham è sicuro di essere pronto? Tra i suoi ingredienti vedo solo un pacco di pasta Fonzi, non lo so, ma che cazzo gli cuciniamo questi qua? Mapone, Mapone, sono tornato dalla pesca Però non ho preso neanche un pesce Non avevo dubbi da un vongoloide come te In compenso però ho trovato dei granchi senza le zampe Dei granchi senza le zampe? Vabbè dai, dali a me che mi servono Ma come? Io volevo ributtarli in acqua Dammi lì, subito! Ed eccoci tornati, allora signor Cunningham, vedo che ha completato il suo piatto Sì, è un piatto tipico che si trova in tutti i ristoranti Spaghetti con i granchi! Ma questi granchi non hanno le zampe! E di che piatto si tratta? Spaghetti, mare e monkey Shushushushushushushushushushushushushushushushushush Spaghetti Bello Grazie.